buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica a domanda risponde oggi parleremo di maturità esami di maturità 2021 risponderemo ad alcune domande di natura tecnica per gli esami di maturità la prima domanda che ci è giunta in relazione è la seguente se alla riunione plenaria di avvio degli esami di stato del secondo ciclo si dovesse assentare il presidente di commissione come si procede per l'esplicamento dell'esame in assenza del presidente il commissario più anziano d'età assume la presidenza della riunione e notifica l'assenza del presidente all'ufficio scolastico regionale in attesa della sostituzione sarà il docente più anziano a presiedere la riunione plenaria in cui verranno fissati i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni in cui si andranno a determinare le attività delle sottocommissioni in particolar modo la data dei colloqui per ciascuna sottocommissione la seconda domanda chi provvede alla sostituzione di un commissario degli esami di stato del secondo ciclo e quali sono i criteri per individuare il sostituto in caso di assenza di un commissario e ricordiamo che i commissari sono tutti interni cioè della scuola in cui si svolge l'esame sarà il dirigente scolastico della scuola oppure un suo delegato a provvedere alla sostituzione del docente in primis si vede si deve vagliare l'ipotesi di nominare un docente della scuola medesima della medesima disciplina poi un docente della scuola ma di disciplina affine nel caso non si sia trovato uno della stessa disciplina in seguito se non si trova nemmeno un docente di disciplina affine ci sarà un docente da nominare come supplente incaricato della disciplina del commissario che si assenta se non è possibile trovare un sostituto della stessa disciplina o di disciplina affine si passa a sostituirlo con un docente titolare della scuola di altra disciplina ma sempre del consiglio di classe della sottocommissione oppure di altro consiglio di classe o come ultima ipotesi nominare un supplente di un'altra disciplina terza domanda se in una commissione ci sono docenti che hanno contemporaneamente impegni in altre commissioni di esame come si procede per il calendario dei colloqui in questo caso al fine di evitare le sue rapposizioni e interferenze i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno più commissari concordano le date d'inizio dei colloqui senza procedere a nessun sorteggio della classe abbiamo terminato per oggi la rubrica domanda risponde riferite agli esami di maturità continuate a seguirci sui nostri canali social facebook e youtube sul nostro sito www.tecniche la scuola.it perché ci saranno sempre notizie sia riferite agli esami di maturità maturità a tanti altri argomenti arrivederci